... E l'ultimo c'era Capriano, quindi Capriano c'è chi c'è questa, chi c'è l'acqua, e poi... E lui si coltiva. Allora, intanto con la retta si comunicano che Capriano ha giudato Coggio, intanto il giro più, più l'inturità, più le punti per un giro a stagli colore, l'inturità per un giro a stagli colore è Capriano e aspettare il sottile per rinnovare in acqua. Potete dire a mettere direttore in schia e a bella, la carta a quattro case, metto il medico di amici, tanto la prima cosa fosse la carta, se fosse la carta, quattro case o quattro case sono le due. Quattro case sono i due. Facciamo, mettiamo? No, cosa fa, la facciamo, la facciamo, la facciamo. Si, sono tre mille, prendi un bene, mi chiedete. Grazie a tutti. Grazie a tutti.